Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come utilizzare il viaggio rapido in Ghost of Tsushima. Esplorando il mondo di gioco vi imbatterete in svariati luoghi o avamposti che una volta liberati dai mongoli avete la possibilità di utilizzarli per spostarvi rapidamente. Alcuni luoghi diciamo sono occupati dai mongoli altri invece sono luoghi storici che esplorerete nel corso della storia e potete teletrasportarvi come in questo caso selezionando il luogo e premendo il triangolo. Il mio consiglio è quello di esplorare 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 e di visitare ogni luogo che diciamo vedete in lontananza perché presso i luoghi non potete solo viaggiare rapidamente e quindi raggiungere magari delle missioni delle attività nelle vicinanze ma anche commerciare e svolgere diverse attività. Quindi ricapitolando per sbloccare il viaggio rapido dovete esplorare la mappa, liberare gli avamposti dai mongoli per poter teletrasportarsi nell'avamposto il quale viene poi occupato dagli alleati.